oggi vi presento i contenitori in vetro premi grassa che sono stati realizzati con il vetro borosilicato che è il 10 per cento più leggero rispetto al vetro non temperato i due contenitori uno da un litro e uno da un litro e mezzo hanno tutti e due un sigillo ermetico con chiusura a quattro lati questo sigillo ti permetterà non solo di conservare le priorità in frigorifero ma anche di trasportarle in più se non utilizzerai il sigillo il contenitore potrà essere tranquillamente utilizzato sia nel forno tradizionale che nel forno a microonde e se avrai anche la necessità potrai sempre col sigillo a chiusura ermetica poter congelare i tuoi alimenti oltre ai due contenitori abbiamo anche il contenitore la pirofila sempre realizzata in vetro borosilicato con un suo coperchio il coperchio naturalmente potrà essere utilizzato sia come tale che come altro piccola pirofila anche la pirofila rotonda può essere utilizzata sia nel forno tradizionale nel forno a microonde in frigo e anche in freezer e allora come sempre ti aspetto con le tue domande i tuoi dubbi e per qualsiasi cosa scrivimi intanto ti auguro un buon pomeriggio ciao alla prossima